vi faccio vedere questa foto di una metropolitana molto interessante perché in realtà riflette una promessa che ci fanno le reti digitali e cioè che tu sei in contatto con chiunque e con qualunque cosa con qualunque luogo indipendentemente da dove stai e puoi utilizzare anche qui questo viaggio perduto questo tempo perduto nella metropolitana per stare al centro del tuo mondo e quindi la promessa è dovunque tu stai tu sei al centro perché sei il punto di inizio il punto di fine di ogni link e questo vale per tutti e quindi diciamo è una promessa anche di democrazia però c'è una domanda che si pose già molto tempo fa a proposito di questo cambiamento di comportamenti Pasolini cioè siamo di fronte a una mutazione antropologica che non soltanto cambiamento di di azione di comportamento ma anche cambiamento di modo di pensare e cambiamento di formulazione di senso quindi è una domanda a cui vorrei rispondere così approssimativamente in pochi tre quattro minuti che mi rimangono ehm osserviamo questo eh questo quadro se riesco a farlo c'è sempre qualche problema nell'avanzamento ecco questo quadro di Hopper questo quadro di Hopper eh descrive una scena familiare due personaggi che noi guardiamo dall'esterno come se fossimo dei foyer che siamo ci stiamo introducendo nella vita privata delle persone e e Hopper enfatizza questo fatto guardando perché guardiamo dalla finestra ci fa entrare dalla finestra dentro a questa scena ed enfatizza anche la separazione tra questi due soggetti perché mette tra i due questo blocco marrone che sarebbe la porta e quindi definisce due universi due sfondi diversi che poi enfatizza ulteriormente mettendo proprio i parallelismi no le simmetrie tra i le linee bianche delle delle braccia oppure i rettangoli dei quadri quindi due universi diversi ora guardate la la scena della metropolitana con gli occhi di Hopper eh si riesce a farlo andare avanti eh scusate ma c'ha dei ritardi per andare avanti forse devo andare qua ecco ecco e guarda e così comprendete il dramma che stanno vivendo queste queste persone della metropolitana cioè praticamente quello che Bateson chiama schimmogenesi cioè una indifferenza che poi dipenda separazione e la separazione che dipenda frammentazione di una vita collettiva ognuno sta chiuso nel proprio universo però c'è qualcosa di più profondo che che sta accadendo e ve lo mostro o o in con quest'altro quadro di Edgar Degas che mostra o che mostra niente praticamente perché qui non ci sono imperatori frontalmente ripresi che dimostrano la loro potenza non ci sono eh veneri o giove sempiterno non ci sono eh vergini eh madonna e santi che stanno facendo qualche miracolo che stanno pregando qui è semplicemente qualcosa che accade nella vita quotidiana c'è qualcuno che passa per strada in questo caso è il visconte le piccole figlie e col cane e poi c'è qui sulla sinistra vedete che appena entra nella scena un signore che si gira a guardare quindi diciamo sostanzialmente è quello che Calvino chiama l'infraordinario cioè quello che accade eh nella nostra vita quotidiana c'è una scena di eh di strada che però incuriosisce questa persona e infatti se eh ci sono una quantità di cose a notare che sono l'abbigliamento delle persone l'eleganza del di questo signore eh il 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 viso di queste due che sembrano gemelline e poi sono anche altre cose che accadono sono quelle che possiamo chiamare le insignificante le insignificanti sorprese della nostra vita eh quotidiana ecco allora quello che accade con il con il sostanzialmente con il link è questo che per definizione una rete collega due punti e per definizione è indifferente a tutto ciò che sta nel mezzo cioè ciò che sta nel link intorno al link non esiste e quindi sostanzialmente lo spazio fisico non esiste perché non esistono gli accadimenti intorno non esistono le cose intorno perché sostanzialmente non ne puoi fare assolutamente a meno e questo è un fatto estremamente significativo perché eh con in questo modo si eliminano le sorprese del quotidiano si elimina il il rapporto con il caso della quotidianità con eh diciamo anche con lo stupore che ti può generare eh diciamo qualche cosa che puoi guardare con curiosità ecco questo è il 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 vero problema che è il vero meccanismo antropologico che bisognerebbe analizzare e quindi diciamo la lezione che emerge da questa da questa da questi elementi è una sola noi dobbiamo cercare di tentare all'interno di 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 queste nuove disponibilità tecnologiche di capire come riappropriarci del mondo fisico dell'esperienza dello spazio che sta intorno a noi per evitare di che accada quello che che Elliot diceva esattamente cent'anni fa cioè dove sta la vita che noi stiamo perdendo mentre viviamo o noi pensiamo di vivere altre cose e che io per non per imitare Elliot che non sarei capaci o quasi modernizzato dopo cent'anni dove sta la vita che abbiamo presso nel cellulare ecco allora noi noi penso che che abbiamo bisogno di questo spazio fisico per evitare il dramma che stanno vivendo questi due amanti di Magritte che tendono in vano di baciarsi ma non ci riescono perché c'è un velo che li divide grazie